Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fibili, dove per lavori si segnalano rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e rallentamenti tra Empoli Est e Montelupo in direzione Firenze. Per questi lavori lo smincolo di Montelupo Fiorentino è chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il bico con la variante di varico Baccheraia e Aglio. Sempre in A1, mercoledì notte sarà chiuso lo smincolo di Barberino di Mugello in uscita per chi proviene da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione tra Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!